Grazie a tutti. Grazie a tutti per essere qui presenti, un grazie al professor Barbero, un grazie per essere qui per l'incontro di questa sera che rientrava per noi all'interno di questo festival Altri Mondi e altri modi che abbiamo fatto per parlare un po' del presente, del futuro. A tinte fosche che abbiamo davanti, delle sfide che abbiamo intorno a noi e davanti a noi per rispondere anche a un attacco che questo luogo in cui ci troviamo stasera in questa occasione è sotto attacco politico, praticamente sotto attacco politico in particolare della questura di Torino e di quanti e altri poteri e forse magari dietro di lei sono disturbate dall'agire politico di questo luogo. Un luogo che esiste come spazio sociale di iniziativa, di incontro, di differenti tipi di iniziative da molto tempo, occupato dal 1996. Siamo più vecchi di tante forze politiche oggi in campo e a tutte più o meno diamo molto fastidio. In questo momento siamo sotto un attacco notevole da parte della questura di Torino per l'impegno, per la continuità con cui in particolare ma non solo questo centro sociale, i collettivi che ruotano intorno ad esso sono stati impegnati in questi ultimi vent'anni nella battaglia Notav, nella cui vicina Valle di Susa. Ci sono persone che hanno affrontato lunghi periodi di detenzione domiciliare, non solo, detenzione anche in carcere. Abbiamo una compagna che è in carcere da due o tre settimane ormai e starà per 11 mesi perché un presidio di fronte al tribunale in cui si protestava per il fatto che un'altra ragazza era stata molestata dalle forze dell'ordine durante un fermo, lei per quel presidio e per quello che ne è seguito oggi si trova in carcere. Tante persone qui hanno subito questo anche per molte altre battaglie che ci sono e questo è il motivo per cui diamo particolarmente fastidio alla questura di Torino e a tante delle forze politiche istituzionali. Oggi sappiamo in che momento siamo a livello internazionale, a livello europeo, a livello del nostro paese, col governo che abbiamo in carica, che sicuramente promette già delle accelerazioni in qualche direzione, come dire, ci sembra peggiore di quelle di prima, sul solco ma peggiore di quelle di prima. Allora, veniamo al dunque. Noi ringraziamo ancora il professore di essere qua anche perché precedenti ospiti sono stati minacciati, hanno cercato di non far venire a suonare qua della gente, che poi è venuto lo stesso, per questo anche ci saranno dei processi in corso, eccetera. Non sarà questo il caso, siamo in un posto al chiuso, quindi non rischiamo questo. Col professore appunto approfittiamo di questa presenza, per noi è importante, per provare un po' a parlare di storia e del rapporto che la storia ha col nostro presente, col modo in cui viene manipolata, riscritta, utilizzata politicamente, in cui viene nascosta. Partiamo con un po' di domande, poi vediamo se ci sarà anche possibilità di aprire le domande al pubblico. Ovviamente siete tanti e tante per cui non potremo accontentare tutti. Partiamo un po' dal titolo che abbiamo dato a questo incontro, Un presente senza storia, perché ci sembra un po' che viviamo in un'epoca di un presente continuo che dimentica molte delle radici, delle genealogie che ci portano al momento in cui siamo. Ci piaceva questo titolo, perché in passato c'erano altre formule che era il presente come storia, sono stati titoli di libri fortunati, di altre epoche storiche, probabilmente quando si aveva un più profondo senso di appartenenza, c'era la storia della storia che veniva prima e si guardava al futuro come qualcosa di luminoso, come una promessa di avanzamento, di progresso, di miglioramento. Oggi se noi guardiamo al nostro futuro è alquanto fosco, come minimo possiamo dire, e sembra che il modo che abbiamo intorno, chi ci governa, i media, siano profondamente impregnati di ignoranza storica, come se tutto succede da un momento all'altro, come se non ci fossero radici, come se non ci fossero genealogie, processi in corso, eccetera. Quindi partiremo un po' con una domanda generale sulla storia e sul suo uso col professore. C'è chi dice che la storia è maestra, c'è chi dice che in fondo non serve tanto perché cambia sempre, e tutto è sempre nuovo. Gli chiediamo lui come la vede, qual è il tuo punto di vista, la storia può ancora illuminare qualcosa del futuro che abbiamo di fronte in questo momento particolare? Ma illuminare il futuro magari è un po' troppo, però come dire, non è una risposta semplice come vedete, a te non ti scoccio se mi alzo in piedi mentre rispondo perché così... Diciamo, io credo che la storia sia nata un sacco di tempo fa, non con l'idea di illuminare il futuro, ma è nata, come dire, in una prospettiva che oggi non ci basta più, e cioè semplicemente avvengono certe cose che bisogna che siano ricordate, ci sono grandi imprese di cui i ragazzi del futuro dovranno essere informati, cioè capite del genere abbiamo sconfitto i persiani, e abbiamo sconfitto i persiani e volete, i giovani d'oggi già non lo sanno più, bisogna scriverle queste cose. Ci sono stati grandi uomini, i quali in genere erano quelli che poi pagavano gli storici perché si ricordassero le loro grandi imprese. Poi invece a un certo punto, da un lato ci siamo accorti che la storia non può essere soltanto la storia delle grandi imprese e dei grandi uomini, anche se intendiamoci, le ultimissime vicende ci hanno anche ricordato che c'è un motivo, se oltre a parlare della gente comune, si parla anche di quelli che prendono le decisioni, perché quelli che prendono le decisioni poi influenzano la vita di tutti, e c'è un motivo, se in storia non ti occupi soltanto della vita quotidiana, di cosa si mangia, o di quali sono i sentimenti della gente, ma ti occupi anche dei grandi avvenimenti, perché ci siamo accorti che un'epidemia investe la vita di tutti, una guerra investe la vita di tutti, quindi in realtà rimane vero che effettivamente fare storia è anche fare storia, una volta si diceva dei grandi uomini, diciamo di quelli che prendono le decisioni, decisioni che ripeto poi pesano sulla vita di tutti quanti, e dei grandi avvenimenti che fanno i titoli dei giornali, è anche questo effettivamente che va privilegiato. Dopodiché c'è stata un'epoca in cui si pensava che le vicende umane, come dire, si potesse scoprire che c'erano delle regole che determinavano quello che succede. Quelli che ci hanno creduto più di tutti, direi che sono stati quelli della storiografia marxista. La storiografia marxista, come dire, partendo dall'intuizione di Marx, che è una cosa di cui gli storici non si erano mai occupati, cioè quanto prende di salario un operaio e che rapporto ha col suo padrone. Ed è diverso dal rapporto che lo schiavo nell'antica Roma aveva con il suo padrone. La parola è sempre la stessa, guardo qua. Allora, partendo da questa intuizione, Marx, da un lato, ha scoperto una cosa fondamentale, cioè che l'economia è una delle cose più importanti per determinare quello che succede. Poi l'ha anche specificato, restringendo il focus, non solo l'economia, ma proprio i rapporti di produzione, cioè il rapporto fra il padrone e quelli che lavorano per lui, fra lo sfruttatore e quelli che vengono sfruttati. Una volta, però, avuta questa intuizione, come dire, ci si è fatti un po' prendere dall'entusiasmo. E cioè si è detto, abbiamo scoperto questa cosa fondamentale. L'economia è importantissima, anzi no, è decisiva. È da quello che dipende tutto. È quello che fa andare avanti la storia. Quelli che comandano, i padroni, che per restare padroni sono disposti a fare qualunque cosa. E poi nel tempo vengono fuori altre classi sociali e li scalzano e prendono il loro posto. Allora, questa cosa è diventata anche l'illusione che a quel punto ci fossero delle leggi e si potesse prevedere. Quindi, cosa sarebbe successo dopo? Perché, insomma, c'è poco da fare. Se la storia obbedisce a delle leggi, tu una volta che quelle leggi le hai capite, analizzi la situazione e dici, beh, allora, con questo rapporto di forze, quello che succederà è questo. C'era anche un po' di ottimismo quasi religioso, eh? Nel dire, va bene, abbiamo capito, la storia è la storia di classi sociali che comandano e che poi vengono scalzate da quelli che stavano sotto. E abbiamo visto la nobiltà che comandava. E con la rivoluzione francese abbiamo visto i borghesi che l'hanno scalzata e hanno preso il suo posto. Adesso la nobiltà, sto parlando di come vedevano le cose i marxisti fra 8 e 900, eh, non più del mondo di oggi, adesso la nobiltà non c'è più, non conta niente, ci sono i borghesi che comandano, i padroni delle fabbriche, i padroni delle banche. E chi è che li scalzerà? E i proletari. Per forza. Cos'altro c'è? I proletari li scalzeranno. Ma notate che non sto esprimendo opinioni mie, eh, sto dicendo quello che sperava Marx e quello che hanno sperato alcune generazioni di comunisti. Ma diciamo, l'illusione era che questa fosse una certezza. Perché la storia ha delle leggi che sono quelle e quindi noi dobbiamo soltanto discutere, come dire, per capire bene i dettagli, come dire, quando i proletari saranno sul punto di prendere il potere, la lotta di classe diventerà meno intensa, perché ormai i padroni avranno capito che stanno perdendo, oppure al contrario diventerà più intensa, più feroce di prima. Stalin, disse, diventerà più feroce di prima. Quindi dobbiamo mandare un sacco di gente nei campi di concentramento, perché è pieno di potenziali nemici. E anche se abbiamo già fatto la rivoluzione e creato un paese comunista, la legge della storia, secondo me, è che quando sei vicino al successo lo scontro diventa ancora più aspro. Quindi capite, c'era molto margine per giocare su come vedo le regole io e come le vedi tu. Però comunque erano tutti convinti che le regole ci fossero, le leggi ci fossero. E poi andate in un altro modo, come sapete tutti, no? Ecco, e si è scoperto che non è così, non funziona così. Certo che l'economia conta tantissimo, certo che la lotta fra le classi esiste, ma non è sempre quella forza travolgente che determina il corso della storia e comunque ci sono troppi fattori in gioco. Dopo quell'ubriacatura, quell'illusione meravigliosa, eh, di poter dire che abbiamo capito quali sono le leggi della storia, possiamo prevedere il futuro. Venuta meno quella cosa lì, tutti quelli che fanno il mio mestiere si sono un po' disamorati dell'idea che ci siano delle leggi. Vabbè, io questo discorso l'ho già fatto altre volte in passato, anche qualche anno fa, quando si parlava di questo davanti a un pubblico, mi capitava di dire, scherzando, guardate, in realtà noi non crediamo assolutamente che ci siano delle leggi della storia. O se proprio volete ce n'è una, ecco, l'unica legge sicura della storia è non bisogna invadere la Russia. E tutti ridevano per l'appunto, ecco. Dopodiché, appunto, noi oggi non ci crediamo più. Allora a cosa serve? Non serve a prevedere con certezza matematica il futuro. Serve, io direi, alcune cose. Uno, serve a sapere che il mondo in cui ci troviamo adesso e che è l'unico che conosciamo per esperienza diretta, si è formato attraverso delle decisioni, dei cambiamenti, delle innovazioni. Non è sempre stato così. Il che vuole anche dire non c'è niente di sacro nel mondo così com'è. Perché tutto ciò che esiste una volta era diverso. Dai valori, dalle cose che si insegnano ai bambini, alle cose che è giusto fare o che non è giusto fare, a come funzionano le istituzioni. Una volta tutto era diverso. Questo non vuol dire che allora è tutto uguale. Però bisogna sapere che non si deve sacralizzare il presente credendo che quello che noi ci troviamo intorno sia immutabile. Non è così. Una volta era diverso e in futuro sarà di nuovo diverso. Ovviamente non rallegratevi troppo, può anche voler dire fra 500 anni. Ma quello che si... Ecco, quella sì è una regola della storia. Sì, è vero. Me lo fate venire in mente adesso. Niente rimane mai fermo. Può sembrare che tutto rimanga fermo. In realtà tutto si sta muovendo sempre, sottoterra. Non è detto che uno lo veda nella propria vita, eh. Il cambiamento che esplode fuori. Ma il cambiamento è sempre lì che sta lavorando. Vabbè, anche questa è una banalità nel senso che non l'ho mica inventato io. Lo diceva già Marx anche quello. La storia è una talpa che scava. Scava, scava. Dopodiché tutto quello che sembrava solido si dissolve nell'aria e lascia il posto a qualcosa di nuovo che nessuno si aspettava. Quindi questa è una cosa per cui secondo me studiare la storia serve. Cioè uscire dai limiti del nostro presente che è l'unica epoca che ci è dato vivere per relativizzarla, diciamo così. e poi e poi la storia vuole comunque la storia il passato è comunque una forza che influenza quello che noi facciamo. Non conoscerla. Cioè la differenza tra conoscere la storia e non conoscerla è come avere a che fare con una persona e doversi fidare di quella persona per esempio dover accettare quello che quella persona ti dice fare delle cose insieme a quella persona io direi che c'è una certa differenza a seconda che quella persona sia uno che hai appena incontrato e non sai assolutamente chi sia o invece sai com'è arrivata fin qui e cosa ha alle spalle. E quello che vale per la singola persona vale per la nostra società nel suo insieme. Non vuol dire che puoi sempre prevedere quello che la gente o i capi di Stato faranno ma vuol dire che puoi fare delle previsioni ragionevoli e poi soprattutto quando succedono le cose hai degli elementi per dire beh certo che è successo per quel motivo lì perché in quel paese le cose le fanno in quel modo per esempio e in quel paese altri hanno fatto le cose in quel modo già in precedenza ripeto nulla è ferreo non sono regole fisse però c'è una bella differenza di nuovo tra il veder succedere qualcosa magari di drammatico e il dire beh ma oh non è mica tanto diverso da quello che è successo in quello stesso paese 50 anni fa e prima ancora oppure invece sei lì e dici ma perché ha fatto questa cosa perché è successo questo e non hai un minimo di strumento per provare a capirlo ecco direi che è quello che serve sostanzialmente più ma sto facendo lunghissimo quante domande hai ancora vabbè comunque più più il fatto che in ogni caso la storia è semplicemente il catalogo di tutte le cose che hanno fatto gli esseri umani da quando esistono i vecchi storici dicevano dobbiamo fare il catalogo delle cose meravigliose che hanno fatto gli esseri umani e va anche bene quello ovviamente è anche il catalogo di tutte le cazzate che hanno fatto gli esseri umani e di tutte le atrocità che hanno commesso gli esseri umani però appunto se uno non ne sapesse niente saremmo molto più impreparati nel provare a capire che razza di bestie siamo noi cosa siamo capaci di fare come reagiamo in certe situazioni cosa ci si può attendere che succeda quando si è creato quell'insieme di circostanze è già successo in passato uguale mai ma con certi aspetti paragonabili invece sì ecco grazie no beh dai non applaudite ragazzi tanto grazie allora veniamo un po' alloggio ancora siamo d'accordo che non esistono leggi storiche leggi storiche che possono prevedere continuiamo a pensare diciamo a questo indirizzo che come dire un certo sogno di ribaltamento di certi rapporti di forza e di cambiamento radicale continua a essere una guida in qualche modo potrà essere irreale potrà essere però continuiamo a pensare che in fondo sia una cosa che come dire spinge ad andare avanti in un modo più interessante che non l'apatia in cui siamo confinati negli ultimi 20-30 anni la fine della storia che era stata decantata 30 anni fa non ha portato dei miglioramenti secondo noi oggi la storia ci torna con dei violenti schiaffi in faccia siamo alle prese con una guerra si fanno molti paragoni storici quello che va più diciamo per la maggiore sui media mainstream insomma quello che ha corso più maggioritario è il paragone con la seconda guerra mondiale quindi con delle forze del bene da una parte delle forze dal male dall'altra con la Russia che oggi ripete i gesti della Germania del 39 a noi questa è la domanda che ti facciamo la situazione in cui siamo con questa guerra ci ricorderebbe come dinamica molto più quello che è stata la prima guerra mondiale siamo d'accordo che le cose non si ripetono ma c'è qualcosa di simile della dinamica nella prima guerra mondiale le potenze di allora si trovarono ingaggiate in una dinamica di conflitto tutte più o meno pensavano di risolverla in qualche mese tutte pensavano che non sarebbe durata quante durate che non sarebbe stata quella in mani carneficina di esseri umani e poi tutte le potenze sono state come dire ingaggiate dentro questa dinamica e nessuno poteva tornare indietro ci sembra che la situazione attuale sia più simile a quella della prima guerra mondiale che non della seconda cosa ne pensi ovviamente quando dici la guerra fra le tante guerre che ci sono al mondo in questo momento intendi quella in ucraina vero e di quella specificamente che parliamo sì il paragone con la seconda guerra mondiale come dire richiede un certo sforzo di di convinzione ecco bisogna essere già convinti prima ancora di cominciare a ragionare in questo senso che quando si fa un paragone con la seconda guerra mondiale si dice in sostanza seconda guerra mondiale è scoppiata perché c'era un dittatore pazzo o se non pazzo molto cattivo comunque che voleva conquistare il mondo e se non proprio il mondo comunque almeno l'Europa e nessuno credeva che fosse così cattivo da voler davvero fare questa cosa Hitler e quindi d'altra parte c'erano i pacifisti l'idea di una guerra spaventava tutti e quindi quando Hitler ha cominciato a prendersi un pezzetto dopo l'altro di quel mondo che voleva conquistare all'inizio gliel'hanno lasciato fare e quindi si è preso l'Austria e nessuno ha detto niente si è preso un pezzo di cecoslovacchia e nessuno ha detto niente se ne è preso un altro pezzo e nessuno ha detto niente no lì hanno cominciato a dire qualcosa lì il presidente del consiglio inglese Chamberlain ha finalmente detto alla camera dei comuni ma allora possiamo davvero fidarci delle promesse del signor Hitler visto come si compa ecco e quando si è voluto prendere la Polonia hanno detto no adesso basta allora il paragone l'abbiamo sentito tutti presuppone che Putin non sia soltanto un dittatore ma sia o un dittatore pazzo o un dittatore pazzo e sanguinario che vuole fare pronto a fare la guerra ovunque a caso perché gli piace farla gli piace ammazzare la gente è pronto ad attaccare chiunque e se avesse preso l'Ucraina a quest'ora avrebbe attaccato il Portogallo come disse un noto giornalista qualche mese fa allora questo come dire bisogna crederlo per fede bisogna crederlo per fede perché non c'è il minimo sintomo di questo se uno conosce quella parte d'Europa e sa quali sono le tensioni e quali sono i precedenti qui non è questione di sapere se ci piace il modo in cui Putin governa la Russia che mi pare difficile che ci piacerebbe se noi vivessimo lì non è questione di stabilire se è un dittatore più o meno malvagio o sanguinario di altri il punto è che essere un dittatore malvagio e sanguinario non significa in nessun modo che quindi vuoi conquistare il mondo Pinochet in Cile negli anni 70 è stato un dittatore estremamente malvagio e sanguinario conquistare il mondo non gli interessava minimamente allora quello che uno deve sapere per analizzare quello che succede è cos'è che in linea di massima può interessare a chi governa la Russia la Russia non è mai stata interessata minimamente a conquistare il mondo e nemmeno a conquistare l'Europa neppure al tempo di Stalin perché Stalin che aveva come dire allargato in molti modi brutali e sanguinari l'Unione Sovietica non lo ha fatto nella prospettiva di e poi andiamo sempre più avanti l'ha fatto fin dall'inizio essendosi messo d'accordo con gli altri e dicendo io arrivo fin lì e basta l'Italia ve la tenete voi milioni di italiani non erano contenti all'epoca ma invece Stalin disse no no l'Italia la Grecia ve la tenete voi ecco d'accordo allora cos'è che uno capisce se prova a studiare la storia dell'Europa orientale uno capisce beh intanto che mentre a noi appunto della storia interessa fino a un certo punto lì la storia è una forza viva presente fortissima la storia però purtroppo anche proprio soltanto la storia come memoria cioè non la storia come approccio critico ma la storia come rievocazione delle sofferenze che il nostro popolo ha subito e di come è eroico il nostro popolo queste cose che qui non sono più di moda e va bene così direi invece nei paesi in genere dell'Europa orientale semplifico un po' naturalmente voi mi capirete ci sono delle differenze ma nell'insieme nei paesi dell'Europa orientale questa cosa è più forte questa cosa è più forte e non è tanto la storia quanto appunto la memoria unilaterale e questa memoria come dire è alimentata a sua volta dalla politica e dalla propaganda e condiziona le decisioni che prendono i politici le cose che i politici possono comunicare al loro popolo e che sia una dittatura o sia una democrazia non cambia molto quel condizionamento è comunque sempre fortissimo quindi lì siamo di fronte a una parte di mondo dove ogni popolo ha subito orrori spaventosi nel corso del novecento e ha commesso orrori spaventosi nel corso del novecento e ognuno si ricorda soltanto gli orrori che ha subito e non quelli che ha commesso e questo già evidentemente crea una situazione poi l'altra cosa che si impara io poi sono qui che pontifico come se fossi uno specialista di storia russa non lo sono e il bello è questo cioè basta sapere poco della storia di quella parte d'Europa per orientarsi la Russia come vi dicevo appunto non ha mai avuto ambizioni di conquista dell'Europa i russi sono arrivati una volta anche in Italia nel 1799 poi se ne sono andati e loro si ricordano ancora quella cosa il generale Suvorov che comandava l'armata russa che sconfisse i francesi e arrivò a Torino e a Milano nel 1799 per loro è un grandissimo personaggio Putin voleva regalare una sua statua al comune di Torino qualche anno fa dopodiché però come vennero se ne andarono i russi sono anche arrivati a Parigi nel 1814 dopo che Napoleone era arrivato a Mosca dopo di allora quindi negli ultimi 200 anni come dire noi italiani abbiamo invaso la Russia tre volte la guerra di Crimea poi l'intervento nella guerra civile dopo la rivoluzione d'ottobre e poi quando Mussolini ha mandato gli alpini e tanti altri con le scarpe di cartone d'accordo quante volte la Russia ha invaso l'Italia negli ultimi 200 anni nessuna noi li abbiamo invasi tre volte gli inglesi li hanno invasi due volte la guerra di Crimea e l'intervento dopo la guerra civile durante la guerra civile cosa che come leggo sui vostri volti nessuno sa neanche cosa sia qui da noi ma loro se lo ricordano che dopo la rivoluzione nel pieno della guerra civile fra i rossi e i bianchi tutti i paesi occidentali hanno mandato truppe in Russia per aiutare i bianchi e sono poi state cacciate via con disdoro quando i rossi l'hanno vinta lo stesso loro se lo ricordano c'erano anche truppe americane gli americani una volta nella storia hanno invaso la Russia i russi non hanno mai invaso l'America è inutile dire ecco i tedeschi lasciamo perdere quante volte hanno invaso la Russia ecco di fronte a questo la Russia i governanti della Russia capite sto generalizzando molto ma si riconosce un schema e lo schema è dobbiamo essere sicuri siamo minacciati siamo circondati da nemici già varie volte siamo stati invasi nel caso peggiore diciamo nessuno ci vuol bene e quindi e quindi dobbiamo stare attenti dobbiamo difenderci e magari anche allargarci per difenderci guardate bene non sto dicendo che quindi se uno la guerra la fa per questi motivi fa bene a farla quello è tutto un altro discorso in un mondo in cui si fosse riusciti davvero a eliminare la guerra il primo che decide di farla di nuovo meriterebbe davvero che tutti quanti si qualizzassero contro di lui vedete voi se siamo in un mondo in cui siamo riusciti a eliminarla la guerra ecco ma non è questo il punto non è affatto questione sia chiaro perché poi questi sono quei discorsi che poi semplificati su qualche giornale diventano ecco hai giustificato il storico non importa niente stabilire che quello era molto cattivo oppure no allo storico importa capire cosa voleva fare quello lì perché ha fatto quella cosa cosa aveva in testa capirlo importa allo storico e dovrebbe importare anche ai politici naturalmente diciamo però ci sono dei casi in cui magari capire troppo ti impedisce di fare quello che invece vuoi fare visto che c'è l'occasione che la tua gente capisca troppo ti impedisce poi di far passare certe cose e quindi non tutti hanno l'interesse al fatto che poi si capisca come stanno le cose il che ripeto poi appunto sul fatto di fare la guerra io mi rendo anche conto che il mio mestiere ha in sé un pericolo e il pericolo è questo che noi non ci abbiamo mai creduto che la storia sia finita noi abbiamo sempre saputo che non è finita per niente e continua esattamente come prima e che gli esseri umani sono le stesse bestie di prima e che certo è bellissimo che in un pezzetto di mondo in occidente tra le tragedie del novecento si sia cominciato a dire mai più guerre cose che nessuna civiltà si era mai sognata di dire figurate voi un antico romano che scende in piazza per dire mai più guerre ma non è una propria idea ma neanche gli atenei no la guerra è sempre stata una parte della vita umana e di nuovo attenzione dire questo non vuol dire giustificarla anche l'omicidio fa parte e si può dire l'aggressività umana a volte porta a uccidere e riconoscere che è così non significa mica giustificarlo naturalmente però quello che vi dicevo che lo storico rischia di come dire perdere il contatto con quello che pensano invece tutti e che lo storico appunto vede succedere le cose e dice ma cosa vi stupite ma queste cose sono sempre successe e sappiamo anche perché succedono e ti potrei citare un sacco di altri esempi e poi ti accorgi forse che questo ti può anche inaridire un pochino ti riduce anche la capacità di commuoverti la capacità di essere travolto dall'emozione non è detto che sia una bella cosa però certamente lo storico di fronte a quello che succede dice certo esattamente come è successo quell'altra volta quasi come quell'altra volta ancora e certo funziona così crei certe condizioni e succede quello e questo ripeto appunto non significa affatto giustificare che la guerra sia una cosa spaventosa un po' si è sempre saputo per gran parte della storia umana si è pensato che fosse una cosa al tempo stesso spaventosa e bellissima nella nostra civiltà occidentale e cristiana si è discusso per millenni sul fatto se la guerra non si deve mai fare come dicevano i primi cristiani a nessun costo però poi voi capite che quando l'imperatore romano diventa cristiano anche lui e gli vuoi dire all'imperatore che la guerra non la deve fare mai è il suo mestiere allora si comincia a dire che la guerra però no certo è sempre una brutta cosa però certe volte certe volte bisogna farla perché certe volte è giusta bella non è mai ma giusta può essere e e chiunque scatene una guerra è perché pensa che sia giusta in base alla sua testa al suo sistema di valori e a come vede il mondo di nuovo è giustificato ma no non è questo il punto è questione di capire quello che succede mi ricordano giustamente che la domanda era leggermente più ampia la prima guerra mondiale no allora indubbiamente la prima guerra mondiale è arrivata in un mondo che sotto certi aspetti era molto diverso dal nostro e sotto certi altri invece era pericolosamente simile allora la differenza la diversità sta in questo nell'ambito che ci interessa adesso sia chiaro che noi oggi viviamo in un mondo dove ci sono potenze armate fino ai denti però tanti paesi compreso il nostro invece dalla fine della seconda guerra mondiale in poi avevano sposato l'idea che non ci interessa essere una grande potenza militare che magari si spende di più per gli ospedali e per le scuole che non per le forze armate e che alla guerra si vorrebbe evitare di ricorrere nel 1900 l'Europa del 1914 non era così nell'Europa del 1914 tutti gli stati spendevano cifre gigantesche per mantenere enormi eserciti e costruire corazzate ospedali non ne costruivano ma corazzate sì e tutti davano per scontato che fosse bello e giusto fare così perché bisogna essere armati fino ai denti in un mondo pericoloso dove ognuno balla solo a se stesso bisogna essere armati fino ai denti e bisogna anche avere degli alleati però e quindi firmare dei trattati e così via e quando è scoppiata la prima guerra mondiale è scoppiata perché un paese dopo l'altro coinvolto legato da trattati di alleanza non poteva a quel punto fare un passo indietro se aggrediscono il mio alleato e io ho firmato che se viene aggredito intervengo cosa succede posso star fuori beh un paese che all'inizio è stato fuori c'è stato indovinate quale ecco l'Italia che era alleata della Germania e dell'Austria ha trovato io non so avevano infranto loro il trattato per qualche cavillo effettivamente avevamo il diritto di restare fuori ma gli altri paesi si sono trovati tutti dentro allora anche adesso viviamo in un mondo in cui esistono grandi alleanze militari armate fino ai denti che danno per scontato che ogni paese come dire si comporti in base ai trattati che ha firmato e alle alleanze a cui è legato poi detto questo scusami il budget militare si sta aumentando ecco allora appunto di nuovo voi capite dopo il massacro della prima guerra mondiale in Europa si è sentito dire mai più guerre ed era ripeto un salto in avanti della civiltà straordinario velleitario ottimistico però già il fatto che lo si dicesse seriamente era una cosa ripeto che non si era mai vista né sentita prima ed è anche il motivo per cui ci hanno messo tanto a fare la guerra a Hitler perché tutti quanti avevano giurato ai loro popoli mai più guerre poi dopo la seconda guerra mondiale questa cosa è diventata come dire patrimonio comune in apparenza no ecco e molti paesi l'hanno preso anche però sul serio l'abbiamo preso sul serio noi scrivendo nella Costituzione che non avremmo più fatto quella cosa che per tutta la storia umana era rimasta normalissima e che per esempio in altri paesi al mondo ancora oggi sembra normalissima e cioè tu litighi con un altro paese e litighi 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 e ti provoca ti provoca ti provoca e alla fine può anche darsi che facciamo la guerra tutto questo sarebbe stato perfettamente normale per Socrate perfettamente normale per un qualunque antico romano sarebbe stato perfettamente normale per Dante Alighieri ancora anche penso per il signor De Voltaire e invece alla fine del novecento sembrava che non fosse più così normale un altro paese è il Giappone il quale per costituzione appunto non doveva neanche avere forze armate se non una cosa simbolica allora di fronte a questo indubbiamente vedere il rischio che proprio nei paesi che avevano erano così avanti da questo punto di vista si ricomincia a spendere di più in spese militari e badate che le forze armate sono un aspetto complesso di un paese le forze armate sono un aspetto intanto che nel mondo così come è fatto oggi non può non esistere e sono molto diverse da quelli che erano gli eserciti di una volta sono anche come dire organizzazioni che hanno anche un personale come dire a me ogni volta che ho incontrato dirò una cosa che di fronte a un pubblico come questo può sembrare impopolare ogni volta che ho incontrato dei militari ho avuto l'impressione che fossero gente di qualità più che non incontrando che ne so politici o ecco qui lo dico perché è quello che penso dopodiché era un gran bene un mondo in cui almeno in certi paesi si diceva certo le forze armate dobbiamo averle e ce le abbiamo ma il bilancio delle forze armate lo manteniamo al minimo strettamente indispensabile quando si comincia invece a cambiare idea su quello ecco si sta perdendo qualcosa e quindi sì certo certo che c'è quel pericolo certo che c'è poi direi ancora un'altra cosa però che come dire il parallelo con la prima guerra mondiale più impressionante a me sembra forse una cosa che non bisogna dire non lo so perché è talmente evidente cioè immaginate due paesi confinanti e ostili che si detestano e in uno di questi paesi nella zona vicino al confine vive una grossa minoranza etnica che ha la stessa nazionalità del paese confinante parla la stessa lingua del paese confinante e a torto a ragione si sente oppressa e discriminata fino al momento in cui il paese confinante decide di invadere il paese vicino per liberare i propri connazionali che sono minoranza oppressa d'accordo è chiaro che è tutto soggettivo sono oppressi davvero si sentono bisogna vedere non è detto che sia sempre così ma soggettivamente il paese che ha la stessa nazionalità di quella minoranza passa la frontiera pensando che sia una cosa giusta e sacrosanta che quella minoranza venga liberata e annessa al nostro paese questo è quello che l'Italia ha fatto il 24 maggio del 1915 quando noi abbiamo invaso l'Austria e Ungheria paese che detestavamo benché ufficialmente fossimo alleati tuttavia noi l'abbiamo invasa fin dal primo giorno di guerra i soldati italiani sono entrati in un paese straniero abitato da stranieri in parte fin dai primi giorni sono arrivati in zona dove la popolazione non era affatto italiana ma era slovena o croata ecco perché? perché bisognava liberare i nostri che gemevano sotto l'oppressione dell'impero austriaco a quell'epoca queste cose erano normalissime nessuno ci trovava assolutamente niente di strano all'epoca era normalissimo noi adesso viviamo in una parte del mondo dove l'idea di comportarsi così sembra assurda ma noi viviamo anche in una parte del mondo dove le minoranze etniche e linguistiche sono tutelatissime hanno tutti i diritti anche un po' di più sono totalmente liberi di vivere tutta la propria vita parlando la propria lingua e così via sotto certi aspetti l'Europa orientale vive ancora in un'altra epoca quando le logiche non sono esattamente le stesse ti tengo ancora su un set di ragionamento affine a quello che abbiamo finora affrontato un piccolo commento quello che dicevi io non ho mai avuto l'occasione e l'onore di conoscere gente dell'esercito militari non ci tengo particolarmente viene da dire che dall'inizio di questa guerra quando in televisione parlavano dei militari sembravano più sensati di tutti gli altri e questo va detto perché perlomeno sanno di cosa parlano allora abbiamo parlato un po' della guerra in corso seconda guerra mondiale prima guerra mondiale tu hai fatto un accenno anche una delle varie volte che l'Italia ha invaso la Russia tra le tante hai parlato della guerra civile che ha seguito la rivoluzione russa del 1917 allora nonostante una certa narrazione quella appunto della fine della storia che interpretava in un qualche suo modo il discorso sul secolo breve continuiamo a pensare che uno degli eventi se non l'evento spartiacque della storia moderna non della storia moderna della storia che chiameremo contemporanea del novecento la grande rottura sia stata la rivoluzione russa e l'evento del 1917 che sia stato un evento che ha costretto le classi possidenti le elite dominanti del mondo occidentale a confrontarvi a confrontarvisi prima in un tentativo di strozzarlo poi in un tentativo di venirne a patti poi avendolo sconfitto parlando di quella forma particolare che è stato il socialismo reale nel 1917 diciamo tra i prodotti del 1917 non come causa unica perché era un processo storico che iniziava a germinare parallelamente ma sicuramente il 1917 ha dato un impulso un'accelerazione un altro processo storico che è il processo di decolonizzazione non è stata la causa crediamo che sia stata una diciamo una bella spintarella allora l'interpretazione della fine della storia quella storia è stata sconfitta poi uno può pensare se in bene o in meglio insomma soprattutto per le conseguenze che ha avuto il processo di decolonizzazione diremo di no c'è un rapporto tra questi due e come lavorano nel mondo contemporaneo perché il processo di decolonizzazione continua ad andare avanti anche se magari non ha le forme che va presa Bandung anche lì le cose sono andate diversamente ma in questo mondo instabile di oggi questi due processi come risuonano mi rendo conto che è una domanda vasta però ormai mi ci hai abituato alle domande vaste ma dopodiché sì allora mettiamola così per cominciare quando lo storico riesce a dare delle risposte soddisfacenti alle domande che si fa o che gli fanno di solito è perché sta studiando qualcosa che è un processo completo concluso per dirla in due parole si sa come è andata a finire e si sa davvero però è proprio finita la storia dell'impero di Gengis Khan entro certi limiti si può studiare con una certa ragionevolezza per quanto poi certe radici si ritrovano poi sempre nel presente a volte vanno incredibilmente indietro però in buona sostanza fino a quando una vicenda storica un percorso storico non si è concluso tu puoi ovviamente studiarlo nel senso che cerchi di ricostruire gli avvenimenti che ci sono stati fino a questo momento però ti manca comunque qualcosa voi provate a immaginare appunto la differenza fra studiare l'unione sovietica e la sua parabola oggi è quello che poteva dire non solo uno storico ma chiunque di noi io c'ero nel 1900 ancora nel 1988 l'unione sovietica è poi crollata tra l'89 e il 90 d'accordo ancora nel 1988 che stesse per crollare non se lo immaginava nessuno e che la vicenda complessiva di quel primo e più grosso tentativo di costruire uno stato un sistema alternativo rispetto al capitalismo e al liberalismo che quella vicenda fosse da considerare come un totale fallimento alla fine alla fine appunto fino al giorno prima della fine non avrebbe usato dirlo nessuno poi ovviamente quando hai l'impressione che invece una svolta davvero c'è stata allora ti precipiti a trarre le conseguenze no? e fai la parodia della storia finora la storia che abbiamo visto è stata basata sullo scontro tra due sistemi contrapposti e fra due grandi potenze Stati Uniti e Unione Sovietica adesso Unione Sovietica non c'è più di grande potenza ce n'è una sola di sistema ce n'è uno solo e quindi e quindi la storia è finita e sono i rischi che appunto corri quando hai l'ossessione di giudicare di capire di dire va bene basta finito quella cosa lì ci possiamo ragionare tranquillamente perché si è conclusa quella cosa e la stessa cosa per la decolonizzazione negli anni 60 quando effettivamente uno dopo l'altro gli ultimi paesi coloniali diventavano libere repubbliche e poi ancora negli anni 70 quando gli ultimissimi ancora l'Angola il Mozambico combattevano per liberarsi sembrava assolutamente evidente che il colonialismo era una cosa finita morta e sepolta tu adesso un attimo fa hai detto ma mica tanto intendiamoci è morta e sepolta nella forma che è esistita davvero nessuno più oggi per il momento almeno può andare in giro dicendo ci sono razze superiori e razze inferiori ci sono civiltà più elevate che devono aiutare quegli altri cioè aiutare quegli altri poveretti continuiamo a dirlo veramente quando c'è da portare la democrazia da qualche parte però sostanzialmente l'idea che ci sono interi popoli quali devono essere governati da altri perché da soli non ce la fanno finché non saranno arrivati al livello giusto e che colonizzando altri paesi e governandoli si fa una cosa da un lato gloriosa di cui essere orgogliosi e dall'altro utile davvero anche a loro poverini ecco in questa forma il colonialismo oggi non esiste direi anche se appunto qualche cosa da regalare anche agli altri che sono rimasti un po' indietro ce l'abbiamo sempre ma va bene però però oggi che possiamo anche fare il bilancio dei primi 50-60 anni degli nuovi stati indipendenti in Africa specialmente anche in Sud America naturalmente in qualche misura ma insomma essenzialmente in Africa e in Asia e vediamo quanto quanto ancora dipendono in mille modi dai paesi invece avanzati e in genere proprio dagli stessi paesi che li avevano colonizzati in precedenza beh allora è chiaro che a quel punto capisci fai un passo indietro dice un momento non lo so se il colonialismo è finito e quindi non sono neanche in grado di dirti dove stiamo andando perché appunto finché un percorso non sia concluso e la voglia di dire sia conclusa è grandissima e invece e invece no forse la notizia buona è che magari anche la sensazione fortissima che si ha adesso che il tentativo di costruire un sistema alternativo al capitalismo va bene c'è stato è stato fatto con estrema energia un sacco di gente in tutto il mondo ci ha creduto è andato avanti per più di un secolo e si è risolto in un totale fallimento quindi su quella cosa lì basta un colpo di spugna poi ci sono minoranze di matti che ancora ci sperano ma storicamente quella cosa lì è finita ecco magari non è vero neanche questo dopo tutto però certamente è come dire è vero che il comunismo è fallito nella misura in cui è stato costruito credendo in un progetto preciso credendo di avere in mano di nuovo appunto la scienza di come si fanno le cose quell'aspetto quella cosa lì non c'è più ora io non so più perché sto dicendo questa cosa perché non mi ricordo più esattamente come era formulata la domanda la domanda secondo me è che il processo decoloniale di fianco e spinto anche dall'evento del 17 oggi continuano a lavorare nonostante quello che si dice e questo ci è dimostrato anche dalla misura in cui il resto del mondo non è prono all'occidente oggi e non è disposto ad accettare qualunque cosa che l'occidente gli imponi in nome della nostra presunta e superiore democrazia o idea di civiltà non ci sembra che siamo dentro uno scontro di civiltà siamo dentro come sempre nella storia scontri di interessi geostrategici economici appropriazioni di risorse appropriazione del surplus prodotto globalmente e quindi il ragionamento era su questo il processo della decolonizzazione continua a andare avanti perché sempre più paesi nel mondo sono meno disponibili a obbedire ai diktat che vengono da noi posti dall'occidente in primis dagli Stati Uniti d'America e poi a seguire dai nostri stati europei che crediamo siano abbastanza succubi e subalterni incapaci di una posizione autonoma in questo senso però se vediamo come sta andando non è detto che tutto questo sia fuoriero di un mondo migliore però è oggettivo che il resto del mondo inizia continua in modi differenti da prima a non voler essere allineato e a obbedire sostanzialmente in questo senso era la sì sì sono d'accordo con te diciamo lo storico potrebbe provare a formularla così questa cosa uno degli aspetti della modernità di quella modernità che è cominciata diciamo quando la civiltà europea medievale ha raggiunto un tale livello di sviluppo di prosperità di complessità di sofisticazione anche intellettuale che c'è stato in realtà un salto di qualità volete chiamarlo rinascimento volete chiamarlo appunto età moderna ma non è la negazione del medioevo naturalmente ma è il risultato di un enorme accumulo di progressi e di sviluppo che per secoli il mondo medievale aveva accumulato quando c'è un salto di qualità grosso modo diciamo nel quindicesimo secolo comincia un'epoca della storia del mondo che è l'epoca della conquista del mondo da parte dell'Europa la conquista del mondo da parte dell'Europa e poi diciamo con la complicazione che l'Europa si trapianta dall'altra parte dell'Atlantico negli Stati Uniti d'America e a un certo punto vanno avanti in parallelo poi gli Stati Uniti d'America prendono il sopravvento ma comunque diciamo la conquista del mondo da parte dell'Occidente nel quindicesimo secolo il mondo era pieno di civiltà diversissime fra loro dove la gente aveva idee e valori totalmente diversi da quelli europei si vestiva in modi totalmente diversi e così via e in intere parti del mondo non si era mai sentita nominare l'Europa l'Italia non si era mai sentito nominare il cristianesimo a partire dal quindicesimo secolo uno dei fili conduttori della storia del mondo è come noi conquistiamo tutto il resto un pezzo di qua un pezzo di là comincia a circunnavegare l'Africa e poi a spingerti dentro e a comprare schiavi che ti vendono gli abitanti del posto peraltro questo va detto sia chiaro e poi hai scoperto l'America fantastico ce la prendiamo tutta naturalmente chiaro e poi e dall'altra parte e dall'altra parte l'India come no e la Cina è talmente grossa che proprio conquista però intanto allora adesso sto scherzando però capite noi tendiamo un po' a darle per scontate queste cose certo perché sono successe però è davvero un'epoca nella storia del mondo totalmente diversa da quei 2500 anni precedenti in cui quel fenomeno lì non c'era e gli europei se ne stavano sì per carità gli antichi romani sono andati a rompere le balle anche in Asia in Africa anche loro è stata una cosa più limitata però complessivamente ecco invece a partire dal 400 si innesca un processo per cui nel giro di qualche secolo in tutti i paesi fuori dall'occidente se ci sono delle elite capaci di tentare un minimo di resistenza quelle elite decidono dobbiamo anche noi vestirci come loro pensare come loro vivere come loro e avere i loro stessi cannoni naturalmente ecco questa cosa non è finita ecco questa cosa ha avuto a un certo punto un sussulto contrario dopo essere arrivata al massimo col sistema coloniale poi con la decolonizzazione che indubbiamente hai perfettamente ragione è stata favorita dall'esistenza dell'unione sovietica dei movimenti comunisti per cui era un mondo più complicato dove dovevi fare degli equilibrismi sostanzialmente ecco si è aperta una fase in cui invece appunto il contraccolpo la rivendicazione di dire ma no noi non siamo e non vogliamo essere occidentali e in ogni caso non vogliamo ubbidirvi vogliamo comandare noi a casa nostra non c'è alcun dubbio però appunto che questa fase non è assolutamente conclusa e non è neanche ovvio in che direzione stia andando a dire la verità perché mentre tu vedi come fattore positivo il rifiuto dei governi dei più potenti stati come dire non occidentali di allinearsi però dal punto di vista economico invece l'asservimento di alcuni paesi è ancora pesantissimo poi certo la Cina non più l'India non più tanto il Brasile forse no no certo tutto sommato i sintomi sembrano più di uno sviluppo positivo cioè che il contraccolpo che ha messo fine al dominio del mondo da parte degli occidentali non si è concluso ma sta ancora andando nella direzione giusta diciamo così ecco però appunto a questo punto lo storico si ferma capite mica per niente io sono uno storico del medioevo perché lì come è andata a finire la guerra dei cent'anni siamo tranquilli effettivamente e quindi puoi farci un sacco di ragionamenti e un sacco di giochini adesso come andrà a finire ecco quello che possiamo dire in effetti certo è una fase lunghissima della storia del mondo e non è ancora finita grazie ancora una domanda o due vediamo poi magari se ci sono domande dal pubblico vorrei tornare su un tema che tu spesso espliciti nei tuoi interventi la differenza tra storia e memoria ci sono tante memorie e ognuno in fondo ha la sua legittimità è giusto che abbia voce memorie che possono essere collettive a volte anche individuali ma qua ci interessa più un discorso di memoria collettiva e poi la storia tu dici è un'altra cosa no? quindi a seconda dei periodi quanto più si sono chiusi o meno come stavi dicendo gli storici cercano però di lavorare alla definizione di una verità storica ovviamente che può sempre essere messa in discussione che non è mai completamente chiusa quindi la domanda è se ci sono tante memorie c'è una legittimità di una pluralità di memoria dal punto di vista della storia quindi del lavoro di storico nel ricercare di definire una verità storica come può questa il lavoro dello storico essere un campo di battaglia culturale e politico vabbè questo lo vediamo tutti tutti i giorni come può ma storia e memorie vabbè sono cose che appunto mi è già capitato di dire altre volte l'importante è aver chiaro che sono due cose diverse e che il motivo per cui per gli esseri umani è importante la memoria è perché comunque ognuno di noi è un individuo un soggetto e vede le cose soggettivamente ogni individuo ogni comunità ogni popolo vede le cose dal suo punto di vista vive le cose dal suo punto di vista ed è inevitabile che sia così dopodiché diciamo io credo dopo tanti anni che faccio questo lavoro direi ho abbastanza l'impressione che la tendenza di base degli esseri umani è di fermarsi lì e che quando si dice bisogna conoscere la storia si intende dire bisogna conservare la memoria e del resto in passato in realtà questa confusione era frequente Giulio Cesare quando scrive il De Bello Gallico pensa che sta facendo opera di storico certamente ma naturalmente sta raccontando delle cose che ha fatto lui dal suo punto di vista se ci fosse il De Bello Gallico scritto da Vercingetorige probabilmente avremmo ecco lo storico la storia consiste per l'appunto nel dire vediamo cosa pensava Giulio Cesare e vediamo cosa pensava Vercingetorige di quello che è successo poi i fatti restano i fatti che Vercingetorige ha perso la battaglia di Alesia rimane un fatto se durante quel decennio di guerre sia davvero morto un milione di galli come dicono gli autori antichi sarebbe un fatto che sarebbe interessante poter accertare non lo sapremo mai naturalmente ma anche quello sarebbe un fatto la memoria ognuno se la porta dietro e un paese sano è quello in cui però la memoria non diventa il motivo di base su cui insiste la politica per mobilitare la gente non diventa il motivo per cui prendi certe decisioni anziché altre la memoria è una cosa pericolosa inevitabile ma pericolosa la storia studiare la storia serve proprio io credo a far capire alla singola persona che un conto è come ha vissuto le cose lui la sua famiglia un conto è quello che è successo visto da altri ecco la prima cosa è sempre questa vedere le cose anche con gli occhi degli altri la storia dovrebbe essere anche un enorme moltiplicatore dell'esperienza ognuno è prigioniero della sua vita e poi la allarghi perché comunque papà e mamma ti hanno raccontato delle cose i nonni ti hanno raccontato delle cose e invece con la storia tu parli con gente che altrimenti non sapresti neanche che esisteva la differenza si vede benissimo diciamo così proprio in quelle cose su cui la storia in Italia è ancora un campo di battaglia no? ecco prendiamo la storia del fascismo da molto tempo non è più un tabù dire che in realtà in certi momenti nell'Italia fascista c'era un forte consenso per il regime naturalmente anche questa cosa quando la semplifichi troppo diventa uno slogan diventa uno slogan no ma in realtà c'era il consenso che cazzo volete allora no? ecco cosa c'era di male se erano tutti d'accordo in realtà la storia vuole anche dire andare a leggere i rapporti dei prefetti a Mussolini e scoprire che il consenso al fascismo a Torino nel gennaio del 37 era discreto a febbraio c'erano malumori perché erano rincarati dei prezzi a marzo c'è stato uno sciopero così inaudita poi però c'è stato un grande discorso del Duce a giugno tutto sommato i prefetti dicono no ma in fondo tutto sommato gli umori sono buoni va abbastanza bene ecco detto tutto questo se uno invece vuole semplificare c'era consenso sì c'era consenso di massa in certi momenti anche di massa di tutti ma nemmeno per idea era pieno di gente che era contro ma che doveva stare zitta certo si capisce no ecco dopodiché quelli che erano contro si ricordano cosa voleva dire vivere sotto il fascismo come appunto persecuzioni se chiedi a quelli che c'erano se c'è ancora qualcuno o ai loro figli ti dicono certo papà che era schedato perché era un vecchio socialista ogni volta che c'era una festa pubblica una scadenza importante arrivava la polizia lo portava dentro per qualche giorno certo e prima ai momenti belli era stato anche picchiato e bastonato certo e quelli di chi invece era d'accordo allineato stava bene sotto il fascismo che ricordi hanno andava tutto bene e dal loro punto di vista è così io quello l'ho scoperto nella mia famiglia che era una famiglia borghese che sotto il fascismo stava benissimo e sostanzialmente appunto primo ricordo ce l'ho tanti anni fa io ero soltanto un ragazzino di uno uno sceneggiato televisivo che metteva in scena per l'appunto la vita di di un gruppetto di ragazzi dissidenti sotto il fascismo oppositori e quindi sempre attenti seguiti dalla polizia in situazioni pericolose drammatiche e così via e io ricordo mia mamma che non era affatto rimasta fascista benché suo papà lo fosse non era affatto rimasta fascista mia mamma tutt'altro però vedendo quello sceneggiato la cosa che le veniva da dire è stata ma non era mica così io c'era avevo la loro età non era affatto così la vita in Italia di allora ecco quasi tutti noi tendenzialmente ci fermiamo a questo cioè alla memoria nostra come abbiamo vissuto noi le cose come le viviamo al limite come ce le hanno raccontate e questo va benissimo se ci fosse questa cosa miracolosa di essere tutti capaci anche di dire però lo so che è un punto di vista parziale il nostro che c'è anche l'esatto contrario e dopodiché agli storici piacerebbe molto poter dire ma esattamente quanti erano a favore esattamente quanti contro in quel momento non si riuscirà mai uno dei grandi problemi cosa pensava la gente allora eh qualcuno pensava una cosa poi trovi magari delle opinioni diffuse maggioritarie dei luoghi comuni ma comunque sempre sempre le teste sono innumerevoli quindi c'è tutto detto questo su tante cose la memoria non rimane diciamo una ferita aperta non rimane drammatica e quindi e quindi si evita il pericolo che sulla base di una memoria appunto dei torti subiti del fatto che avevamo ragione noi e invece ecco si evita che su questo si rinfocolino nuovi conflitti però in realtà non finisce mai eh io qui ho un'esperienza anche qui personale di grande delusione no delusione no mi sono reso conto di come sbagliavo io mi sono occupato molto anche della guerra civile americana quella che noi chiamiamo guerra di secessione in Europa no? in America nessuno la chiama così la guerra civile americana non dicono neanche nordisti e sudisti noi in Europa lo diciamo comunque vabbè la guerra civile americana una guerra spaventosa che dura quattro anni che fa 600.000 morti che avviene negli stessi anni in cui in Italia c'è l'unificazione scoppia nel 1861 lo stesso anno in cui da noi si fa l'unità d'Italia da noi dagli anni 90 sull'unità d'Italia si è ricominciato a litigare a spaccarsi e i Savoia e i Borboni e i Briganti e la repressione e e io guardavo gli Stati Uniti dove a me sembrava che avessero avuto una straordinaria capacità invece di rimarginare quella ferita perché negli Stati Uniti sostanzialmente quelli del sud che la guerra l'avevano persa erano ridiventati dei patrioti americani mille per mille anzi tuttora tuttora sono tra gli ecco per molto tempo la maggior parte degli ufficiari di carriera dell'esercito americano venivano dagli stati del sud tutti fieri e orgogliosi di combattere sotto la bandiera stelle strisce quindi come dire ricomposto il paese chiusa quella ferita pacificati i nemici che appunto avevano fatto 600.000 morti prima in guerra tutti contenti e amici e disposti a riconoscere l'avversario tutti disposti a dire sì in fondo noi del sud abbiamo perso però siamo stati gloriosi vero ma certo che siete stati gloriosi grandi vostri grandi generali infatti ci sono le loro statue dei vostri grandi generali no ecco a me sembrava una cosa meravigliosa mi dimenticavo quel 10% della popolazione americana che è fatta dei discendenti degli schiavi i quali solo recentemente si sono resi conto che magari vedere le statue di quei generali sudisti che combattevano per mantenere la schiavitù magari magari a loro non andava bene e lì e lì la memoria dei discendenti degli schiavi è entrata in urto con quella che era la memoria della maggioranza bianca del paese che ricordava quella guerra come una guerra dove in fondo era nato tutto benissimo hanno vinto i buoni però anche i cattivi erano onorevoli e rispettabili e adesso siamo di nuovo tutti amici invece no si è scoperto che ne dimenticavano un pezzo che fa saltare completamente il discorso e però appunto queste situazioni sono foriere di conflitto naturalmente sono probabilmente inevitabili forse giusti questi conflitti ma in ogni caso sono conflitti perché le memorie sono in urto oddio assumo un tono predicatorio scusatevi ma comunque le memorie entrano in conflitto inevitabilmente e quando i nativi americani dicono quel bastardo di Colombo è con lui che è cominciato tutto lo sterminio dei nostri popoli buttiamo giù la statua di Colombo ci sono altrettanti italo-americani i quali dicono ma come ma noi in questo paese eravamo rispettati perché c'era Colombo e lui ci rappresentava noi sentivamo di contare qualcosa perché dopo tutto è Colombo che ha scoperto questo paese e la parata del giorno di Colombo era il momento in cui tutti noi italiani qui in America ci sentivamo per una volta orgogliosi di cosa siamo e adesso voi ci buttate giù la statua di Colombo ecco non c'è una soluzione in realtà finché è la memoria che ti autorizza a dire noi abbiamo subito più torti di quelli che abbiamo fatto e adesso bisogna raddrizzare i conti è possibile che si vada verso la giustizia ma certamente si va anche verso un conflitto che bisogna come dire saper gestire di qua abbiamo fatto un bel po' di domande già al professore io direi se ci sono qualche domanda dal pubblico che vuole essere fatta abbiamo un po' di tempo ancora vieni qua come facciamo sì e quelli in fondo come faranno scusa vabbè no vabbè me l'ero anche scritta devo dire perché mi è venuta allora no vabbè riguarda Fukuyama e riguarda la Thatcher cioè due personaggi che ho sulle palle per cui diciamo abbastanza ma il povero Fukuyama dice che è stato frainteso vabbè ma siamo tutti era quello della fine della storia eh Fukuyama sì ma tanto cioè a posteriori siamo tutti bravi però vabbè quindi post Fukuyama cioè come si può ripensare il futuro cioè come si può inventare un futuro diverso dopo anche quel famosissimo The Reason Alternative della Thatcher poi vabbè qualcuno ha detto che brucia l'inferno non diremo chi l'ha detto sull'A7 però lo potete cercare e quindi cioè da storico cosa direbbe a chi lotta per immaginare una realtà nuova cioè per inventare un futuro che sia completamente diverso dal realismo capitalista come direbbe Mark Fisher come dire da storico per prima cosa direi ragazzi io mi occupo del passato scherzo però però saputo se fosse solo quello qualcuno potrebbe anche dire va bene chi se ne frega di sapere qual è stato l'ottavo re di Babilonia no ecco no io mi sento di dire questo che non è una gran consolazione e sia chiaro contraddicendo quello che ho impiegato mezz'ora a dire all'inizio una legge della storia c'è e non c'entra la Russia stavolta e la legge è appunto l'ho anche già detto prima però adesso è opportuno ridirlo le cose non stanno mai ferme le cose cambiano continuamente però con i tempi loro quindi che ci sarà un futuro in cui non assisteremo più diciamo al dominio incontrastato del capitalismo finanziario che ci sarà un futuro in cui come dire lo sfruttamento sarà di nuovo combattuto in modo efficace che ci sarà un futuro in cui ecco magari succederà di nuovo una volta prima o poi quella cosa incredibile che è successa un po' in tutto il mondo almeno in occidente negli anni 60 70 che i giovani contavano qualcosa che i giovani li stavano a sentire perché erano tanti tantissimi erano anche naturalmente un target come dire di mercato i giovani però i giovani negli anni 60 e 70 erano una fetta talmente numerosa della popolazione che nessun giovane allora aveva la sensazione di vivere in un mondo dove dei giovani non importa niente a nessuno dove i giovani non hanno modo di far sentire i loro bisogni no no per niente quella cosa lì poi è rientrata completamente ci sarà di nuovo magari un momento in cui gli equilibri saranno tali che le cose cambieranno da quel punto di vista però la cattiva notizia è che non sappiamo quanto tempo ci vuole quindi non è affatto detto che sia qualche cosa che noi avremo modo di misurare concretamente nei prossimi decenni però quello che è sicuro è che il mondo cambia se gli storici fossero in grado di prevedere diciamo anche a breve termine in che modo cambia saremmo al potere ma invece e quindi quando sarà scoppiata la guerra tra Stati Uniti e Cina tutti quanti diremo vabbè era ovvio che doveva scoppiare era evidente lo sapevamo tutti ma voi adesso lo sapete se scoppierà la guerra tra Stati Uniti e Cina io non lo so e quello è il problema appunto è il motivo per cui noi storici ci occupiamo del passato buonasera la mia domanda riguarda un po' un dubbio una possibilità che la guerra come categoria storiografica può darsi vada ridefinita oggigiorno perché comunque negli ultimi secoli in realtà mi sto riferendo nella fattispecie agli ultimi due secoli si è pensato in maniera diversa a ciò che fosse la guerra la guerra cos'è? è uno scontro di volontà tra attori politici è un rapporto di mutua collaborazione c'è qualcuno che ha detto persino che la guerra la guerra civile nella fattispecie è uno stato normale dei rapporti politici anche all'interno di uno stato no? in momenti anche formalmente di pace e quindi secondo me al di là del fatto che una mia umilissima riflessione è quella che storie e memoria si incontrino nel momento in cui si tratta di formulare delle categorie storiografiche nel senso che le domande che facciamo al passato sono sempre informate influenzate dalla visione che abbiamo delle cose anche a livello di memoria ecco mi chiedo se sia il caso di ridefinire quella che è per lo storico al di là di appunto categorie operative che magari vengono definite all'interno delle Nazioni Unite del Sipri o in altri in altri ambienti se per lo storico sia il caso di ridefinire un po' la categoria storiografica di guerra di andare a capire cos'è la guerra se un dato fatto storico si consideri guerra oppure meno grazie no certo questo è un grosso problema come dire io non mi muoverei sul terreno che a me non è tanto congeniale del dire in termini generali se il conflitto sia probabilmente sì noi siamo comunque delle scimmie abbastanza aggressive e fondamentalmente una certa misura di conflitto fra gruppi in competizione fra loro probabilmente fa parte del DNA dell'umanità che con guerra si possano intendere cose molto diverse è in realtà una cosa che da un po' di tempo è stata assodata e su cui si discute diciamo da un po' di tempo perché perché specialmente gli antropologi ci dicono che ci sono società in cui si fa certo una cosa che noi non possiamo chiamare se non guerra in cui però come dire le regole del gioco sono talmente diverse da quelle a cui siamo abituati che capisci che effettivamente sei di fronte a qualcosa proprio di antropologicamente diverso se nel momento in cui ti scontri con il nemico lo scopo non è di ammazzarli i nemici ma quello che porta a casa più gloria è quello che può dire io gli sono arrivato vicino così vicino che l'ho toccato e poi me ne sono tornato sano e salvo indietro come pare che presso i nativi americani in qualche caso fosse concepita la gloria in guerra ecco ovviamente è una cosa diversa le guerre possono essere ritualizzate e ovviamente nella storia abbiamo anche assistito all'alternarsi di guerre limitate e di guerre totali anche la guerra totale è un'invenzione relativamente recente in passato più la guerra era una cosa normale ecco questa è una cosa strana in un mondo in cui la guerra è una cosa normale un modo normale di risolvere i conflitti la guerra è anche una cosa molto più tranquilla e più domestica non che non faccia male però insomma io studio il Medioevo l'aristocrazia i nobili del Medioevo davano per scontato che farsi la guerra fra loro fosse un loro preciso diritto e le monarchie impiegheranno secoli per insegnare ai nobili che questo diritto non ce l'hanno perché io ho il diritto di fare la guerra al mio vicino e perché sono generazioni che le nostre famiglie litigano perché secondo noi la nostra signoria arriva fino al ruscello lì e lui invece sostiene che questo pezzo in qua è l'oro e succede spesso che i miei pastori quando vanno a pascolare lì incontrano i loro e finisce abbastonate e allora e recentemente a una festa ci siamo anche insultati a questo punto la vogliamo far finita certo che la facciamo finita diciamo che lo avverto che domenica arrivo con mio fratello i quattro cugini otto nostri vassalli entriamo nel suo territorio e non ce n'è per nessuno e vediamo se hanno il coraggio di venire a fermarci e se non vengono noi bruceremo qualche capanna porteremo via un po' di vacche bastoneremo un po' di contadini gli tagliamo le viti e torniamo a casa e avrà capito che con noi è meglio che non si metta e se invece vengono bene botte da orbi ci divertiremo un mondo ci potrebbe pure scappare il morto ma non è detto non è detto perché dopo che gli avremo dato questa lezioncina lui verrà a dire senti sediamoci intorno a un tavolo e discutiamo una buona volta e sistemiamo questa cosa troviamo degli amici comuni che ci mettono d'accordo loro la chiamavano guerra questa cosa per loro quello era la guerra quando è un modo normale per metterti d'accordo tu odi l'avversario più o meno come come dire in occasione di Torino cremonese quelli del toro odiano quelli della cremonese ma poi finita la partita è finito le guerre tra stati erano già un po' peggio però anche le guerre tra stati finché sono rimaste un modo normale per risolvere le controversie erano limitate nel senso che tu avevi deciso voglio dire che quella provincia te la vuoi prendere dichiari guerra con certe forme invadi combatti una guerra sanguinosissima in cui però in linea di massima si evita di ammazzare i civili e di fare troppo danno anche se poi qualcosa ci scappa sempre però mandi a farsi ammazzare i proletari in divisa dell'esercito e poi a un certo punto finisce la guerra e si fa un trattato di pace e siamo di nuovo amici come prima il novecento ha scardinato completamente questa cosa perché le guerre del novecento sia la prima incredibilmente perché grandi differenze ideologiche non c'erano però già la prima guerra mondiale è stata vissuta da tutti come una guerra contro un nemico malvagio abietto che bisogna annientare non parliamo della seconda quando oltre le differenze nazionali c'erano anche le differenze ideologiche quelli sono i nazisti quelli sono i bolscevichi ecco e vanno annientati la guerra totale voleva dire quello e quindi già come vede già arrivando anche solo fino alla seconda guerra mondiale c'è tutta una serie di cose molto difficili da confrontare se non per il fatto che comunque si usa la violenza dopo le cose sono ancora cambiate e forse come dire per un motivo giusto cioè proprio per il fatto che si era diffusa la consapevolezza che la guerra non bisognerebbe farla il risultato è che dopo la fine della seconda guerra mondiale si fanno le guerre senza però dirlo e facendo finta che non siano guerre e non è una cosa recente che ha inventato Putin naturalmente è completamente passato di moda dichiarare guerra tu non dichiari affatto guerra quando io avevo 22 anni 23 anni la signora Thatcher di buona memoria come dire si trovò i generali argentini che avevano invaso le isole Falkland o Malvinas a seconda di come preferite e di dove vi porta la vostra memoria per l'appunto i generali argentini avevano invaso le isole Falkland convinti di fare una cosa buona e giusta e non si erano sognati di dichiarare guerra alla Gran Bretagna la signora Thatcher decise secondo me giustamente ma è un parere personale che bisognava impedire una cosa del genere e riprendere le isole Falkland e mandò le portaerei cioè una ne avevano solo una gli inglesi comunque più altra roba e ci fu una guerra delle Falkland nessuno dichiarò guerra a nessuno fino a quando le forze argentine sulle isole Falkland si arresero e a quel punto furono tutti rimandati a casa naturalmente e fine l'effetto collaterale è che la giunta dei generali argentini cadde lo stesso giorno in cui si arresero le truppe sulle Falkland naturalmente ma al di là di quello fu una guerra a tutti gli effetti tutti la chiamano la guerra delle Falkland non è stata dichiarata non c'è stato nessun bisogno quindi di un trattato di pace che è un grande vantaggio se vogliamo adesso io non mi ricordo quando è che Argentina e Gran Bretagna hanno ripreso le relazioni diplomatiche ma a un certo punto le hanno riprese facendo finta di niente oggi le guerre si fanno così e quella era una guerra fra due potenze occidentali comunque figurati quando invadi un paese appunto che non sia occidentale non le dichiari e non le chiami neanche guerre ed è effettivamente un cambiamento molto significativo che ripeto ha un enorme vantaggio perché vuol dire che le cose poi si risolvono alla buona senza dover mettere niente nero su bianco al tempo stesso confonde immensamente le idee a tutti e autorizza tutti a dire una guerra noi e noi stiamo assolutamente facendo una guerra ma no come vi permettete di chiamarla così ecco non so se era questo genere di considerazioni che lei aveva in mente devo dire che scusatemi rispondendo alla domanda di prima io ho tagliato un po' corto però eh e cioè al di là dello scherzare sul fatto che tanto le cose prima o poi miglioreranno di sicuro anche senza che interveniamo noi personalmente e che però ci potrebbero volere alcuni secoli perché questo succeda no al di là di questo come dire ogni società ha un bisogno disperato che ci sia qualcuno che dice no che dice a me non va bene così com'è e che cerca di fare qualcosa per cambiare il il dramma di oggi il dramma di oggi è che tu vuoi cambiare e cerchi degli altri che vogliano cambiare e magari una sera come questa li trovi anche ecco però come dire per molto tempo tu ti scrivevi a organizzazioni che contavano milioni di membri e il cui scopo era di cambiare il mondo poi non ci sono riuscite magari tanto bene però comunque l'idea era che una società è fatta di grandi organizzazioni in cui uno può trovare milioni di persone che hanno le sue stesse idee io non so se era meglio a me sembra meglio perché sono cresciuto in quel mondo lì e mi sembra che fosse decisamente più rassicurante poi indubbiamente quei grandi risultati non li ha dati ma certamente oggi mi sembra che già il dire va bene vorrei fare qualcosa ma cosa esattamente ecco riuscire a superare questa difficoltà e provare a fare qualcosa credo che sia quello di cui appunto ripeto qualunque società ha bisogno ecco io volevo solo chiedere una cosa cioè se era d'accordo con me nel definire questo periodo storico transumanesimo com'è che lo definisce? transumanesimo allora io temo che lei si aspetti troppo da me perché è già un approccio filosofico che non è quello dello storico in realtà per poter discutere bisognerebbe che lei spiegasse meglio a me e forse anche a qualcun altro spero che cosa intende esattamente però una cosa mi sento di dirle anche a monte diciamo così definire i periodi storici è una delle cose più difficili del mondo oggi noi abbiamo questa tentazione la gente una volta non ce l'aveva si sta vivendo certo in questo momento viviamo sotto l'impero di Augusto si capisce certo e magari è un'età dell'oro si capisce d'accordo benissimo ma noi come dire che veniamo in un mondo che ha una storia già molto lunga e che quindi possiamo dire tranquillamente c'è stata l'antichità poi c'è stato il medioevo poi c'è stata l'età moderna e noi in che epoca viviamo ecco è un esercizio intellettualmente utile ma non tanto dal punto di vista dello storico forse e proprio per il suo interesse intellettuale che può valere la pena di svilupparlo perché io dal mio punto di vista vi posso dire tranquillamente che quando io ero bambino vivevo nell'era atomica e quando la paura della guerra atomica è un po' diminuita ho vissuto per un po' di anni nell'era spaziale e nessuno aveva dubbi sul fatto che quella era la cosa che definiva l'epoca siamo andati sulla luna e fra trent'anni avremo le colonie su Marte e tutti mangeremo pillole come gli astronauti era ovvio questo quando ero bambino adesso non mi pare che si pensi di vivere nell'era spaziale vero e neanche nell'era atomica purtroppo non lo pensiamo più forse quello sarebbe meglio ricordarselo ma insomma ecco quindi comunque diciamo non bisogna avere fretta le etichette ai periodi le daranno quelli che vengono dopo c'è già l'ottimismo di dire ci saranno quelli dopo tranquilli fra mille anni saranno ancora qui e diranno quei poveretti del ventunesimo secolo che vissero vabbè non voglio portare sfiga dai non lo dirò lei diceva giustamente che la storia si muove sempre e che non rimane mai ferma però mi veniva in mente che ci sono attori politici ben definiti che preferiscono che le cose rimangano così come sono a lungo e che a volte i meccanismi di repressione che si ingranano in questo conflitto raggiungono livelli piuttosto esagerati e personalmente penso che siamo in un periodo in cui i livelli di repressione abbiano raggiunto dei numeri anche preoccupanti e sempre riguardo la storia d'Italia perché poi negli altri paesi la repressione ha ben altre sfaccettature però mi viene in mente quello che è successo in Italia alla fine degli anni 70 o 20 anni fa nelle strade di Genova e se lei è d'accordo con me sul livello di repressione a cui siamo arrivati oggi quanto dobbiamo essere preoccupati? ma dunque io sono d'accordo fino a un certo punto in questo senso che un conto è la direzione in cui si va e un conto è il livello a cui si è arrivati d'accordo? io vedo con una preoccupazione un ridursi degli spazi di libero pensiero e proprio molto concretamente una maggior come dire probabilità che una manifestazione di piazza incontri una repressione da parte delle forze dell'ordine o così via vedo con preoccupazione perché sono in grado di misurare e mi dico sì la tendenza è a ridurre gli spazi di libera parola di libera manifestazione di libero pensiero la tendenza la tendenza è a dare e incoraggiare una certa energia da parte delle forze dell'ordine questa tendenza è inquietante nel momento in cui appunto rappresenta un cambiamento di direzione anche se ormai appunto è almeno dal tempo io credo almeno per una della mia generazione sono stati i fatti di Genova quelli che per la prima volta ti hanno dato la sensazione che appunto non tutto andava così bene e che di fronte a uno in divisa non è detto che dovevi sentirti tranquillo e protetto come invece uno poteva pensare se era un ragazzino di famiglia borghese come me fino a quel momento questo non lo tradurrei però nel dire i livelli della repressione sono diventati poi certo dipende da quanto uno ci si trova in mezzo e da quanto uno ci si trova di fronte però come dire la società capitalistica nel novecento ha saputo produrre forme di repressione e non penso soltanto alle dittature anche negli Stati Uniti negli anni venti o trenta il livello di repressione di violenza di cancellazione del dissenso ideologico era molto superiore a quello che può essere adesso supponiamo ecco quindi non so se mi spiego non voglio affatto minimizzare la preoccupazione di chi si trova a lottare e ha la sensazione di trovarsi in una situazione di crescente difficoltà però insomma in passato c'è stato ben di peggio anticorpi nella nostra società ce ne sono ancora bisogna stare molto attenti e monitorare molto bene appunto in che direzione stiamo andando ecco prego salve allora la domanda è questa prima ha detto che diciamo la la storia non ha leggi universali se non ho capito bene per capire il futuro per capire il futuro scusate comunque la domanda è un po' questa però ha detto allo stesso tempo che la classe operaia Marx contro il padrone c'era già la schiavitù quindi io credo io ho una visione di la storia utile invece a dichiarare alcune leggi universali perché se c'è un filo comune che è la visione di potenza individuale che crea comunque una voglia di superare l'altro e non una voglia di comunità allora la storia dovrebbe dire che bisogna lavorare su questo perché al di là poi del diciamo con cause di ogni memoria del vario tempo comunque c'è un filo comune che appunto riusciamo a fare dei passi in avanti come ha detto lei nella scienza nel mondo moderno perché abbiamo superato diciamo abbiamo migliorato sul nostro interesse individuale di sopravvivenza nel voler comunque avere che ne so nuove macchine per ridurre la fatica avere comunque un sacco di comfort di diciamo minore fatica personale però non abbiamo fatto degli sviluppi avanti per essere moderni da un punto di vista di comunità da un punto di vista di lotta alla nostra potenza individuale a quello che noi dobbiamo essere il nostro pensiero narcisistico di noi stessi questo su questo noi la storia dovrebbe dire secondo me dovrebbe puntualizzare che mentre su alcune cose è vero che semmai diciamo si sono fatti passi avanti da un punto di vista tecnico però da un punto di vista diciamo comunitario umano da un punto di vista di lotta alla violenza in sé per sé al di là del contesto storico se c'è una diciamo se c'è una volontà di comunque di voler diciamo essere più dell'altro ci sarà sempre una violenza e oggi dovrebbe anche dire che in questo mondo molto globalizzato noi la violenza non vediamo neanche più perché noi sempre come diciamo discorso di massa europei comunque facciamo una violenza ai paesi ovviamente con la globalizzazione all'Africa ed è quella la domanda di prima la Cina non ci crede più perché noi ancora attualmente facciamo una violenza di cui non siamo neanche più consapevoli come massa perché non la vediamo neanche più perché è talmente un mondo alienato che non vediamo la violenza che facciamo questa cosa è gravissima perché se non vediamo la violenza che facciamo uno non possiamo già più non lottiamo come non abbiamo mai lottato come storia perché io sui libri di storia ho visto solo parlare di guerre a me della guerra non me ne è mai fregato un cazzo ok io sui libri di storia voglio leggere che c'è quella persona che ha fatto quella guerra e tutti i contesti ma poi capire perché quella persona è arrivata ad avere una mentalità così assurdamente narcisistica del proprio popolo della propria persona perché e la storia si dovrebbe legare alla psicologia per capire come la violenza insiste in noi ma ci sono meccanismi in cui questa violenza come la comunità cioè lavorare sulla comunità aiuta tantissimo l'umiltà e appassisce questa ideologia narcisistica che abbiamo e questa è una cosa e l'altra e poi oggi dovrebbe dire che la violenza la dobbiamo guardare e bisogna studiare la storia per capire che oggi anche in Europa di massa facciamo una violenza senza accorgersi queste cose sono molto importanti soprattutto da fare a scuola ma io sono assolutamente d'accordo direi in particolare una cosa però che la cosa su cui sono più d'accordo è il fatto che per capire i comportamenti umani non è soltanto la storia che ci aiuta lei diceva la psicologia sì la psicologia o l'antropologia comunque cercare di capire appunto come dicevo prima che razza di animale siamo noi e quindi quali spinte istintive quali impulsi abbiamo questa è una cosa su cui la storia ti dà delle indicazioni però non è soltanto la storia il modo per arrivare a capire qualcosa poi una volta che noi abbiamo delle idee chiare su ciò che gli uomini tendono a fare allora è chiaro che si può vedere come storicamente si è lavorato per come dire ridurre i danni e provare a spingere le cose in una direzione positiva sotto certi aspetti per carità ci sono alcune cose che sono ovvie talmente ovvie che insomma va bene le dico lo stesso comunque non c'è il minimo dubbio del fatto che l'essere umano ha in sé una certa tendenza all'aggressività e all'uso della violenza lasciamo poi stare quanto questo possa essere legato anche ai sessi di appartenenza ma in ogni caso l'umanità ha sempre dimostrato storicamente una certa tendenza all'uso della violenza e tutte le società umane si sono trovate d'accordo che bisognava mettere un limite a questa cosa che bisognava dire vabbè ognuno poi si è inventato la sua cosa gli ebrei hanno pensato che Dio avesse mandato una serie di ordini di comandamenti tra cui appunto non uccidere poi chiaro che si deve intendere non uccidere nessuno dei nostri perché invece i filistei quelli li sterminiamo senza nessun problema stiamo parlando di come le comunità organizzano la propria vita non dei rapporti fra comunità diverse però tutte le comunità umane che noi conosciamo si sono poste a questo problema sapendo di cercare che con le leggi tu cerchi di costringere la gente a non fare qualcosa che sarebbe assolutamente istintivo i Longobardi che erano molto basici sapevano perfettamente che se mi hanno ammazzato mio fratello io ho il diritto e il dovere di ammazzare a mia volta il colpevole oppure suo cognato va bene lo stesso o suo cugino e questa cosa è una cosa sacrosanta io perdo la faccia se non lo faccio quindi ho tutto il diritto di farlo tuttavia contemporaneamente i Longobardi avevano sviluppato un sistema di regole per cui si diceva sì però se quelli che hanno commesso questo delitto sono disposti a pagare un risarcimento allora discutete e tu magari il risarcimento lo accetti e rinunci alla vendetta cioè perfino a quel livello nel settimo secolo c'era questa con gente che appunto per cui ammazzare qualcuno era uno scherzo da ragazzi naturalmente giravano tutti armati e perfino loro avevano questa consapevolezza che invece bisogna costruire dei limiti quindi diciamo sì una legge della storia è che tutte le società umane che noi conosciamo sono consapevoli che noi abbiamo degli istinti che vanno frenati e che le leggi servono a quello a impedire che i nostri istinti vadano liberi e sfrenati poi naturalmente un conto sono le leggi quello spiega un ambito l'autorità statale perché esista l'autorità dello Stato è un problema che la gente spesso si è posta perché a nessuno fa piacere avere qualcuno che comanda e a cui devi pagare le tasse dopodiché c'erano tante risposte l'imperatore diceva eh perché è Dio che ha deciso così che ci devo essere io a comandare e ragazzi credete pure che ha ragione lui lui sa quello che fa ma nel medioevo questa cosa qua a un certo punto non basta più non basta più anche perché mentre gli imperatori continuavano a dire alla gente è Dio che mi ha messo qua a un certo punto c'è un papa Gregorio VII che è in conflitto con l'imperatore e per la prima volta dice no no che Dio figurati Dio ha messo me il papa qui io sono qui perché Dio mi ha messo qua l'imperatore il re il duca ma sono quelli che hanno rubato più degli altri sono quelli che hanno ammazzato truffato usato la violenza per imporsi viene da lì il potere capite cosa vuol dire avere un papa che dice il potere non viene mica da Dio il potere è il frutto della violenza di quelli che si sono imposti che hanno deciso di essere superiori agli altri dopodiché però anche quella è una visione estrema nel corso del medioevo a un certo punto ci sono altre formulazioni per esempio in un grande best seller del 200 il romano della rosa un libro che avevano letto tutti si racconta come è nato il potere il potere è nato perché una volta non ce n'era bisogno gli uomini erano tutti fratelli vivevano nell'età del loro non esisteva la proprietà privata quindi non c'era nessun bisogno del potere il potere è nato quando il primo cretino ha costruito uno steccato intorno a casa sua e ha detto di qua non deve passare nessuno il vicino ha scavalcato lo steccato e quello gli ha dato una botta in testa e lo ha fatto fuori a partire da quel momento si sono detti ragazzi qua ci vuole qualcuno che metta ordine hanno preso racconta il romanzo il villanaccio più grande grosso e brutale che hanno trovato gli hanno messo un bastone in mano e gli hanno detto tu fai il re mantieni l'ordine quindi come dire perché esiste il potere perché esistono le leggi perché dobbiamo obbedire è un problema che tutti si sono posti le soluzioni sono tutte mitiche naturalmente forse aveva ragione più di tutti Papa Gregorio VII dopo tutto il potere esiste perché qualcuno vuole comandare e imporsi però però le società hanno anche bisogno di creare delle regole condivise appunto per evitare per evitare che noi facciamo quello che distinto faremmo e che non va bene dopodiché naturalmente poi al di là dell'obbedire alle leggi ed evitare di spaccare la testa quelli con cui litighi ci sono tanti comportamenti umani che vale la pena di studiare e nella storia e appunto attraverso lo studio anche il paragone con gli animali per esempio e tante altre cose del genere adesso mi sto spremendo male ma comincia a essere tardi e avrete pazienza indubbiamente però anche la storia lo insegna chiaramente e cioè che quando hai bisogno di difendere dei diritti e di ottenere qualcosa associarsi e farlo insieme in tanti è assolutamente una cosa fondamentale e quello lo tocchi con mano perché le epoche in cui si ottiene qualcosa sono quelle in cui appunto largamente si è capaci di fare le cose in tanti tutti insieme altro discorso è se sia possibile e non sia un'utopia un mondo in cui si preferisce comunque a priori la collaborazione al conflitto gli diceva la storia dovrebbe insegnare a me gli veniva da dire più che la storia tutti potremmo dire questa cosa come un ideale da raggiungere io mi chiedo sempre però naturalmente se non sia anche un'utopia ecco perché di nuovo bisogna fare i conti con quello che noi siamo che noi siamo davvero però spingere perché i comportamenti sani prevalgano su quelli insani è quello che le comunità umane da sempre hanno capito che bisogna fare adesso sto cominciando a ripetermi quindi mi fermerei qui spero che basti ancora una domanda sì ragazzi io sono uno che va a dormire prestissimo di solito e quindi abbiate pazienza salve io ho un po' una domanda a te ma la storia maestra visto il momento contemporaneissimo in cui ci troviamo se ha un esempio italiano o magari anche proprio dal medioevo in cui due donne hanno avuto la responsabilità politica di potere visto che abbiamo parlato di potere rappresentativa banalmente come ce l'hanno ora due donne che è una cosa io mi sono interrogata un po' sul nord Europa ho provato a fare delle ricerche non è facilissimo trovare due donne che rappresentano due forze politiche totalmente opposte se c'è un esempio anche dal medioevo ecco no ma è come dire è una cosa difficile da dire perché può sembrare urtante però bisogna dirla così com'è più o meno tutte le società umane che noi conosciamo prima della nostra davano per scontato che uomini e donne sono diversi e sono stati programmati per fare cose diverse e che le donne sono programmate per occuparsi per fare i bambini per portarli nella pancia per partorirli per allevarli educarli e occuparsi della famiglia e gli uomini sono programmati per fare la politica la guerra e tutto ciò che è sotto i riflettori sostanzialmente tutte le società hanno sempre dato per scontata questa cosa nel migliore dei casi dicendosi vabbè certo siamo stati creati da dio in questo modo che siamo diversi è evidente si tocca con mano e quindi è normale che sia così ognuno fa la sua parte nella maggior parte dei casi naturalmente gli uomini pensavano anche e la parte nostra è molto più importante ed è molto più difficile e solo noi siamo capaci di fare queste cose ne consegue che le donne non la facevano proprio la politica se non in quei rarissimi casi vabbè lasciamo stare naturalmente la moglie dell'imperatore questo genere di cose qua ma nei rarissimi casi in cui una monarchia per diritto divino i cui sovrani continuavano appunto a raccontare alla gente nonostante Gregorio VII e nonostante il romano della rose il villanaccio col bastone ma i re in Europa hanno continuato per tantissimo tempo a raccontare alla gente che era Dio che li aveva messi lì Dio in quanto aveva scelto una famiglia e l'aveva consacrata e quindi quella famiglia era sacra diversa dalle altre in alcuni regni i maschietti avevano avuto l'accortezza di fare una legge che diceva sì ma questo vale solo per i maschi in altri regni no e quindi capitava che come dire siccome il sangue della famiglia trasmetteva con sé il diritto a regnare e se a un certo punto come dire il re lascia solo delle femmine e sarà una femmina che regna allora a questo punto la cosa sorprendente è che loro erano assolutamente convinti che la politica la sanno fare gli uomini e le donne fanno altro ma non quello non la politica era una cosa considerata del tutto ovvia fino alla prima metà del novecento come sapete se però alla morte del re c'era solo una femmina quella lì diventava regina e di colpo tutti zitti nessuno andava a dire sì niente quella lì è la regina sacra appartiene lei alla famiglia e lei governa e quindi in quei casi trovi la Elisabetta prima di Inghilterra o la Matilde di Canossa insomma ne trovi di esempi ecco però sono sempre in quella ristrettissima situazione lì e la cosa sorprendente è che appunto anche in epoche in cui la società borghese era abbastanza simile cioè dall'ottocento in poi è abbastanza simile alla nostra la società borghese e loro non avrebbero saputo bene spiegare esattamente perché solo gli uomini votano e le donne no se uno le avesse chiesto a Abramo Lincoln che fece votare i neri appena liberati dalla schiavitù ma solo i maschi neri naturalmente ecco io non so cosa avrebbe risposto se uno gli avesse chiesto ma perché le donne no secondo me non gli veniva neanche in mente a nessuno fino a quando qualche donna proprio nella seconda metà dell'ottocento ha cominciato a manifestare in piazza per dire vogliamo votare anche noi all'inizio la gente diceva ma guarda quelle matte è incredibile e mica solo i maschi e anche le donne lo dicevano naturalmente per dire che noi siamo gli eredi di una mutazione antropologica straordinaria cioè noi abbiamo su certe cose idee anzi non idee certezze che fanno appugni con quello che l'umanità aveva pensato fino adesso da questo punto di vista siamo come dire molto fortunati cioè viviamo in un'epoca che sta sperimentando questa cosa che ripeto il rischio è che siccome per noi è così ovvio ci dimentichiamo che invece non lo è mai stato ecco ovvio finora e questo secondo me rende ancora più emozionante ecco il fatto che noi invece viviamo in questo momento in cui si sta tentando di arrivare alla parità ma ragazzi no dai io comincio ad avere bisogno di andar via sono anche congelato oltretutto anche voi direte però appunto ognuno per sé va bene grazie per questa serata grazie a tutti e tutti voi di essere qui grazie a tutti 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 per la gente di passare tieni no questo te lo devi prendere te grazie a tutti 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 grazie a tutti